e serve a tutti i pro io sono 2064 e oggi siamo su una sponsorizzazione ragazzi sponsorizzerò i miei i miei iscritti le mie iscrizioni proviamo iniziamo con la prima scorpio clash aspettate praticamente questo qua è il suo primo e da poco che è un youtube fa di giochi di minecraft e di clash of clans prossimo ragazzi bombix youtube questo qua fa giochi di tipo fa tutorial minecraft clash royale gta questo vuoi mettere il video poi a black ops 3 poi niente più ragazzi abbatti freddo altri gta 5 niente qua e fa pure delle poi fa pure le sponsorizzazioni ragazzi oppure niente più ragazzi ok prossima the best fox 04 ragazzi questo questo youtuber fa fa le intro mi fa le intro poi mi fa vedere i cani immagini fa giochi horror fa tutorial challenge e altre cose agario ragazzi 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 scusate se ho saltato ok stavo dicendo fa idro fa crash of flash vlog vi consiglio di andare in questo canale ragazzoesque il stesso canale poi prossimo pro inté prossimo pro 0 7 questo qua fa tipo di calcio di calcio che so solo di calcio blog poi me ma fa solo questo no si fa solo questo mike my craft channel ragazzi questo fa my craft poi fa le sponsorizzazioni fa oppure questo ci piace molto gioca sempre a my craft vi consiglio di andare in questo canale è molto bello prossima mici tv questo fa escapes prison fa poi fa vlog my craft tutorial poi fate cose so molto ma solo questo si fa solo questo ragazzi alto chiaro alto chiaro questo qua fa giochi tipo my craft america armi poi poi fai fa tutti i giochi alla my craft ragazzi fai blog sembravo che facevo pure challenge ragazzi mi sembrava e shop flash rischi al gusto la challenge poi ok prossima questo è il prossimo però sarà l'ultimo concludere proprio quel video archi ita ragazzi questo fa clash royale girls girl of war e poi fa minecraft the evansy evansy spiderman 2 lascio flash flash poi fa pure fa pure mi sembrava che faceva no fa solo a golf duty black ops 3 poi fai missy challenge fa brava che faceva pure i vlog ragazzi i vlog l'avevo visto qua in giro forse mi sono sbagliato bad max e questo era l'ultima era l'ultimo canale su un altro video farò altre sponsorizzazioni ragazzi voi chiedetevi dei commenti fa pure tutorial oppure oppure escape prison e cose varie finito qua i video caricati voi consigliatevi dei commenti se volete che vi sponsorizzi scrivetemelo ok ragazzi se il video è piaciuto lasciate un commento mi piace iscriviti al canale e ciao non sto beat 64 ciao ragazzi e al prossimo video ciao ciao